ciao a tutti ragazzi benvenuti sul nuovo vostro video oggi siamo ritornati qui su Forte Battle Royale e oggi siamo qui nel nuovo aggiornamento hanno aggiornato il quartiere e non solo ma hanno aggiunto pure una nuova arma e bensì ragazzi hanno aggiunto un arco esplosivo era già stato comunicato due giorni fa e sembra forte usa i colpi del pompa e non c'ha una mira perchè non c'ha una mira? ok aspetta un attimo mettiamo così aspetta un attimo munizioni infinite si applica ah ok figa figa però non c'è la mira questa cosa non mi piace voglio vedere prima una cosa si brucia il misce perché sapete che se se brucia il misce è molto buono aspetta devo mettere la mira adattiva ok ok ora facciamoci qua facciamo la cassa di questa roba che sembra veramente figa questa roba raga raga ok facciamo prescire iniziamo la nostra partita e guardiamo come va appunto questa cosa qua come va come fa ok intanto il nostro coso è già là ok ammunizioni infinite e questo l'abbiamo capita ora copriamo le statistiche come come dice come arma è soltanto leggendaria come danni fa 118 vabbè 118 poi a cadenza di tiro 1 dimensione caricatore 1 come giusto che sia tempo di ricarica 1,3 come distanza la balestra eccola la mira è questa ok quindi una mira buona questa raga dicendo la verità però alcune volte e si voi fare brunoscop costiera guardate Fai così Fai così A parte che voglio vedere quanto danno fa All'estrattivo Ok A quanto è rimasto? Ok A 40 Quindi fa 100 Ad ogni cosa Quindi ti faccio così Vedi da qua Secondo me È OP questa roba È OP Ora andiamo in partita per provarla Andiamo Ok ragazzi Siamo qui in partita Ora andiamo qua In questa cacetta qua Poi andiamo qua Spostiamoci così Così magari abbiamo Tempo per luttare E trovare questa appunto Una nuova balestra Comunque sì Comunque questa arma Molto mi piace Molto 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 bella Molto bella Non ho niente da dire Raga Niente da dire Ok 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 Se trovo subito la nuova balestra Io andrei a corso commercio Per Per Qualcosa di buono Speriamo di trovare Un'arma Visto che io non ne sto trovando Nessuna Comunque è bella questa cosa Che fa 118 di danno E quello è soltanto in body Raga In age 8 Quanto farà? Che non si sa Cioè quindi Anche se prima Aveva fatto 100 Se mi sbaglio Soltanto 100 Quindi Oppure era soltanto La struttura Quindi Che serve È vero A parte che Io non sto trovando Niente come arma Niente di niente Quindi Per forza Dovrò andare là Giottare Ok La cassa Il fiocchino Siamo in automatico L'hanno aggiunta Raga Boh Vabbè Ma c'è In battle royale Nelle partite normali Questo fiocchino O soltanto In questa Modalità Ok Due cassa È buono Vabbè Vabbè Pure questo Ottimo Perché Vedo un attimo Ok Non so più Come si usa Questo ciocchino Perché Io avevo visto Un trucco Prima lo sapevo Usare Questo ciocchino E avevo visto Un trucco Per usarlo Molto bene E quindi Io Dovrò vedere Di nuovo Questo video Per magari Vi fare Qualche Giocata con Dei miei amici Con questa modalità E vi comunico Che questa modalità Ora in cui Stiamo giocando In coppie Non l'hanno messa In singolo E secondo me In coppie Un po' Inutile Perché Perché C'è C'è In coppie Poi L'ultimo Aggiornamento Ha fatto Veramente Schifo Raga Dico Proprio Così Il tomb Ha fatto Schifo E l'avevano Detto pure Altri Giocatori E addirittura Ho visto Su twitter Che Un giocatore Di calcio Se mi sbaglio Aveva detto Aggiustate Di nuovo Fortnite Eh sì Ragazzi Non so Perché Ma l'hanno Fatto L'ho fatto Intanto Qua c'è il tente E provo Ad Siederle Comunque Raga Secondo me Dovevano Mettere La gravità C'è Fermo Eh Raga Ti pare Che Ti sta Fermo E basta Ebbene Vabbè Vabbè Facciamo così Tutto il tempo E stiamo Mesti Bene Stiamo Misse A posto Raga Guarda Questo Guarda Messe Ebbene 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 Grazie. Quanta gente c'è, raga? Ok. Eh, raga, vi avviso che, appunto, stiamo in duo versus squad. Quindi versus squad. Non è che io so così tanto forte, quindi ho finito pure i mazzi. Siamo messi malissimo. Il schizio di prima l'avevamo ittato. Avevo visto che l'avevamo ittato. Però, vabbè. E con il nuovo arco ci sta un botto alla screen member, come nella schermata di caricamento, quanto sono un bastardi questi, raga? Ho dovuto sprecare tutti quanti i miei materiali mo? Ora? Per colpa di questi, solo di questi. vabbè, vabbè, raga. Non abbiamo provato la nuova arma, però ho portato, credo, un gameplay decente in solo versus duo con questa appunto di sfida tra sciacchini e vabbè. Ciao ciao! Ciao!